Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'impasto per pizza integrale. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina integrale, farina di tipo 0, acqua, olio evo, lievito di birra fresco, zucchero e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero e il lievito. Ed azionare il bimbi per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina integrale, la farina zero, l'olio e il sale. Ed azionare il bimbi in modalità spiega per 2 minuti. lasciare riposare 10 minuti nel boccale. Trascorso il tempo azionare nuovamente il bimbi per 2 minuti in modalità spiega. lasciare riposare l'impasto nel boccale per altri 10 minuti. Trascorso il tempo azionare nuovamente il bimbi per 2 minuti in modalità spiega. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per 2 ore. Impasto per pizza integrale. Grazie e alla prossima ricetta. grazie. 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 Grazie a tutti.